Con l'AFA l'umidità e le alte temperature si iniziano a cercare i rimedi più disparati che possano almeno farci dormire sonni tranquilli. Mentre è stato dimostrato che l'aria condizionata può nuocere alla salute, soprattutto se si è sottoposti a frequenti sbalzi di temperatura, pare che il materasso estivo sia uno dei modi migliori per ottenere un sonno ristoratore anche d'estate. Bisogna privilegiare materiali naturali, magari sicuramente la fibra di bambù che è più fresca, garzata, antibatterica, termoregola meglio la temperatura corporea. E poi ci sono anche degli accessori che si possono apporre sul materasso, come dei tessuti, uno in particolare si chiama Outlast, è un brevetto americano, è proprio proattivo, quindi reagisce non facendo aumentare il calore del corpo, ma mantenendolo nel suo stato più ideale. Lo stesso accessorio si può anche adottare come copriguanciale. Quando dobbiamo raggiungere la fase REM, la fase profonda del sonno, abbiamo bisogno di abbassare il livello della temperatura corporea e quando in estate fa molto caldo non riusciamo ad effettuare questo processo. Per questo, ci spiega Cinzia, è importante la scelta di fodere e materassi adeguati. Esistono anche tessuti tecnici brevettati in America, come l'Outlast, che al tatto rimangono sempre freschi perché disperdono il calore. Mi conferma che i materassi hanno una propria stagionalità? Allora sì, ci sono materassi che hanno la stagionalità nella lastra interna, quindi magari memory e schiuma air nel lato estivo più fresca. Oppure materassi, per esempio, a molle o molle insacchettate dove la stagionalità è nella fodera, quindi lana o cotone organico nel lato invernale e bambù più fresco nel lato estivo.